Siamo a caso, l'incorso Umberto, dietro di noi la palazzina dove ieri sera è stata trovata priva di vita una donna di 88 anni, Cesina, bambina, Damiani, una donna disabile, è stata trovata priva di vita dalla badante che ogni giorno si recava da lei per assisterla ed ha subito dato l'allarme. La donna presentava evidenti segni di strangolamento. La telefonata ai carabinieri è stata fatta intorno alle 18.30, sono arrivati subito sul posto insieme al 118. In casa sarebbe stato trovato anche un biglietto di scuse non firmato. I carabinieri si sono messi subito alla ricerca del figlio, Francesco Rotunno, 64 anni, unico sospettato per l'omicidio, lui viveva con sua madre, è stato rintracciato in serata in una strada con i polsi sanguinanti, trasportato d'urgenza all'ospedale di Lanciano, ora è ricoverato nel reparto di psichiatria. Le indagini, disposte dalla procura di Lanciano, le stanno conducendo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lanciano insieme ai militari della stazione di Casoli. La notizia ovviamente ha sconvolto un po' tutta Casoli, anche se la famiglia originaria di Fara San Martino è ben conosciuta qui a Casoli, sindaco Massimo Tiberini. Ma sì, ci ha sconvolti tutti ieri sera a prendere questa notizia, una famiglia rispettabilissima, una famiglia seria che non ha creato problemi di chi che sia. Adesso a prendere queste notizie che emergono in queste ore è estremamente sconvolgente per tutta la nostra cittadina. Quanto riguarda Francesco, il figlio, quando ha fatto richiesta per delle borse lavoro al Comune, lo abbiamo accolto immediatamente, la dirigente si è impegnata fattivamente per risolvere la problematica e aveva iniziato un percorso di borse lavoro, che poi aveva lasciato proprio per accudire la madre. Lei ha preso la notizia dai giornali? Sì, dal giornale, però lavorava, lavorava al Comune, questa persona. La mamma non lo conoscevo, anche perché io sto qua da una quarantina d'anni, quindi non è che sono tanto al corrente. Conosceva il figlio? Il figlio lo conoscevo, ha lavorato anche in Germania, mi sembra. Non so come sia potuto succedere. Una brava persona. Brava, sì, per me sì. Un episodio che ha sconvolto un po' tutti quanti comunque. Un po' tutti, non lo so, in un paese così piccolo comunque, capitano anche queste cose, sono gravi, ti fanno pensare alla solitudine delle persone, a questo è.